Quando sono le 8.44 in questo giovedì mattina vi vogliamo portare a Maglie, nella bella Maglie. Andiamo in Salento dove il primo agosto ha preso il via la 24esima edizione del Mercatino del Gusto con l'indubbio merito di aver accorciato le distanze appunto della lunga e variegata Puglia mettendo insieme tutto ciò che è di buono la stessa produce in termini di prodotti tipici ed enogastronomia ma anche di cultura del mangiare e del bere, mangiare e bere bene soprattutto di qualità. E noi siamo collegati questa mattina, lo ringrazio di cuore perché sicuramente è molto impegnato, ci sono tanti eventi da seguire lui è l'ideatore e fondatore del Mercatino del Gusto Michele Bruno. Buongiorno, benvenuto Michele. Buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Ti abbiamo buttato giù dal letto ma mi sembra di capire che sei mattiniero quindi... Allora, edizione numero 24 del Mercatino del Gusto, innanzitutto facciamo un bilancio di metà percorso, come sta andando? Credo due giornate molto soddisfacenti sia come numero di persone che hanno affollato le vie della città di Maglie che come qualità dei partecipanti. Abbiamo iniziato con l'innavoluzione della mostra di Tobbia Scarpa con la presenza del sottosegretario Sgarbi e poi diciamo con tutti gli eventi programmati giorno per giorno. Ecco, che cosa succede a Maglie quando c'è il Mercatino del Gusto? Quando viene un visitatore che cosa si trova davanti? Che cosa può fare? Che cosa può gustare? Che cosa può vedere? Ma è una manifestazione diciamo multiculturale perché il cibo è cultura però amiamo sempre diciamo contaminarci con le altre culture per cui si può ascoltare musica, c'è lo spazio per lo jazz, c'è lo spazio per il gusto folk ma ci sono anche diciamo eventi collaterali tipo il salotto letterario dove ci sono presentazioni di libri o il tirartardi da quest'anno c'è anche un altro evento che si chiama Tradizioni Innovative dove diciamo mettiamo in spettacolo tutto ciò che è tradizione facendolo diventare diciamo appunto un'innovazione ma poi può andare per le vie, può andare per le vie dei dolci, la via della gastronomia, la via degli spiriti, la piazza del vino la via dei presidi e comunità del cibo, c'è tanto cibo di strada e ne abbiamo addirittura due diciamo agli antipoti a destra e a sinistra dove la gente può riversarsi e più di un chilometro, il cosiddetto chilometro del gusto. Che meraviglia, poi c'è anche come dire un angolo dedicato ai più piccoli con il mercatino junior sono 24 edizioni Michele, tu sei il fondatore e l'ideatore domanda che potrebbe sembrare banale però insomma in qualche modo ci incuriosisce com'è nata questa idea? Ma nacque nel 2000 dove avevo organizzato un evento a Lecce all'interno della quale ho conosciuto delle persone che poi mi hanno chiesto di pensare a un evento da fare a Magli, città onestamente che conoscevo poco però da allora non ci muoviamo più, almeno l'estate. Rimanete lì. Allora io vorrei ricordare il sito internet mercatinodelgusto.it sarete lì a Maglie fino al 6 agosto quindi ci sono altri tre giorni per venire a visitarvi per vedere, gustare e ammirare le bellezze enogastronomiche della nostra Puglia grazie Michele Bruno per essere stato con noi, buon lavoro sappiamo che ti attende una giornata intensa e piena di impegni. vi aspettiamo a Maglie, buona giornata grazie, grazie ancora per essere stato con noi